E concluderà questo primo gruppo Il coro Jacopone da Todi In realtà Ci tengo a precisarlo La Passio è un progetto Che ha fatto realizzare la federazione In Corus Federation Ma in qualche modo Noi siamo Non abbiamo frontiere Quindi in qualche modo Siamo felicissimi anzi Di essere qui Con Gaetano Stellino Che è il maestro Del coro Jacopone da Todi Di Alcamo Della provincia di Trapani Per noi Eseguiranno il brano Oligno Santo Di Palmieri Toscano Grazie maestro Stellino Grazie a voi Intanto per questa bellissima iniziativa Che intanto ci fa conoscere È già una bellissima cosa Poi mettiamo in comunione Insomma tutte le nostre esperienze Veramente straordinarie È un motivo Veramente di cuore Di ringraziarvi Questo pezzo è un inno È un inno Della Settimana Santa Che è stato riscritto Chiaramente È la lode alla croce Insomma che è stato riscritto In dialetto siciliano Insomma E il testo L'ha scritto Don Liborio Palmeri È un sacerdote Della nostra diocesi A cui siamo legati Anche da rapporti di amicizia La musica è stata composta Da Vincenzo Toscano Vincenzo Toscano È un violoncellista Che ha una formazione Una solida formazione classica E però Diciamo La sua attività musicale Spazia un po' Anche nella In altri ambiti Nel teatro Ha collaborazioni Molto varie È un testo Diciamo Che ha una forte carica Diciamo così Emotiva Anche perché È musicalmente Strutturato In modo tale Che iniziano Poche voci A cantarlo E poi Diciamo così Il complesso Delle voci Si riunisce E quindi Il registro Vocale Diventa più intenso Fino alla strofe Appunto Della morte Della morte Di Cristo Per noi È particolarmente Diciamo Importante Questo pezzo Per la nostra storia Ripeto Come avete detto Anche voi Si tratta Di una registrazione Di qualche anno fa Perché Purtroppo Non abbiamo Molti materiali Sonori E audio Disponibili Perché La nostra associazione È intitolata Jacopone da Todi Insomma Nasce proprio Da Un antichissimo Progetto teatrale Che abbiamo fatto Tanti anni fa Di Messa in scena Della Della lauda Di Jacopone da Todi Donna del paradiso Insomma Aveva la famosissima Lauda E quindi È tutto ciò Che ha a che fare Con la Settimana Santa Con i riti Alla Settimana Santa Anche Con incursioni Nel Quest'aspetto Diciamo così Drammatico Teatrale Nelle nostre Nelle nostre Corbe Grazie Grazie mille Veramente Ciao Un saluto a tutti Mi chiamo Isidoro Stellino Sono Un cantore Del coro Dell'associazione Jacopone da Todi Sono anche Il presidente Dell'associazione E mi viene chiesto Di dire due parole Sulla Nostra Realtà Ecco Cosa c'è da dire Da trent'anni Più di trent'anni L'associazione Jacopone da Todi Offre Il contributo Alla sua attività Culturale Al territorio Alcamese E tra le sue Attività culturali La principale Se vogliamo È proprio Quella Corale Insomma La più Forte espressione Nell'attività Dell'associazione E rappresentata Appunto Dal coro Dal coro Polifonico E Cosa posso dire Se non quello Che condividiamo tutti Cioè Che cos'è il coro Una bella Bellissima Esperienza Umana Un'esperienza Di condivisione Di D'incontro Di amicizia Ecco Se volete Ecco Posso dire Due cose Che Secondo me Costituiscono Diciamo Il cuore L'esperienza Corale Il grande Patrimonio Di conoscenze Di incontri Con le persone Di vario tipo Artisti Insegnanti Di musica Cantanti Musicisti Compositori Che negli anni Abbiamo incontrato E costituiscono Un vero e proprio Patrimonio Di conoscenze Di arricchimento Tutto umano E poi L'altra cosa Che mi piace Considerare È questa Il coro Ci abitua A affrontare Insieme I problemi Cosa significa Mettersi di fronte A uno spartito Se non questo Affrontare i problemi Cercare di risolverli Insieme Un po' Come succede Nella vita Ecco Conoscenze Insegnanti Aveito Che Se non120 Conoscenze Insegnanti Il coro E' un coro Il coro Il coro Conoscenze Il coro Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.